Clamoroso rilancio del LaliLal che riesce finalmente a conquistare il cuore di Max Allegri con il progetto e con i soldi. Volevano l'allenatore più vince, l'allenatore più simpa... Vabbè insomma sono ricchi, non capiscono niente di calcio e volevano quello che prendeva di più all'anno, quindi hanno scelto Max Allegri. Il punto adesso è la Juventus. Come sostituisce Max? Per quanto riguarda le ipotesi Conte, Osidane restano fantascienza, come si farebbe a pagare questi allenatori che hanno un cachet molto alto quando quest'anno per mandar via Allegri che ne piava solamente 7 non sono stati in grado di tirare fuori una buona uscita. Se le cose andassero male con Conte come faresti visto che ha preso 15 milioni poi al Tottenham? Ti ritroveresti nella situazione in cui ti sei trovato con Allegri. Quindi dobbiamo essere realistici, quali sarebbero i nomi più accreditabili a questo punto? Tudor o magari Tiago Motta? Mi sollazza un po' l'idea di vedere il contrario di quello che abbiamo visto negli ultimi anni, cioè personaggi che sono stati alla Juventus e sono passati all'Inter, tipo Marotta, tipo Conte. Ecco Tiago Motta è stato giocatore dell'Inter, ma a differenza di altri giocatori dell'Inter che magari hanno partecipato al triplete, non sentono dentro di sé quella animosità verso la Juventus. Un Materazzi per esempio non le manda a dire Tiago Motta quando imbeccato dai giornalisti sulla questione Juventus ha sempre dribblato. Quindi ho pensato, perché non puntare finalmente su un personaggio che ha idee nuove, giovane, che ha portato già diversi successi nel suo piccolo, lo spezza e lo ha salvato. E si è visto quest'anno, sapevo di cosa ha fatto, ha preso il Bologna nella partenza classifica e l'ha portata nella parte sinistra. Ma cosa combinerebbe quindi Tiago Motta a Juventus? Per questa carriera role play partiamo quindi da luglio 2023 con la stagione 22-23 che si è appena conclusa. Il Napoli ha vinto lo scudetto, la Juventus è in conference nonostante i 10 punti di penalità. L'albo d'ora è aggiornato, la classifica attuale vede il Genoa, il Fosinone, il Cagliari e il Verona che ha vinto lo spareggio essere quindi in Serie A. Come si fa a fare questo? L'abbiamo già visto in quest'altro video dove parlavamo dei risultati reali. Questo quindi è il nostro profilo allenatore per la carriera role play. Lo abbiamo creato sulla base dei dati del Tiago Motta presente nel database, quello originale che però abbiamo torto. Come si fa a fare tutto questo? Lo vediamo a fine video. Per chi è curioso vi ricordo che in questo format della carriera role play noi andiamo a fare mercato, andiamo a fare la tattica, ma sarà l'alter ego alle nostre spalle che poi dovrà portare i risultati. Quindi noi andremo a simulare chiaramente la stagione, ogni tanto entrerò chiaramente stoppando la simulazione per vedere cosa hanno combinato appunto i nostri ragazzi e poi chiaramente ritornerà a simulare fino alla fine. Affrontiamo subito l'elefante della stanza, ovvero quei giocatori che hanno un contratto in scadenza. Vi anticipo già che Milik non l'abbiamo esercitato, Di Maria ovviamente se ne è già andato. Quadrado in questo universo parallelo non ha accettato il ridimensionamento dello stipendio, ma soprattutto ormai c'ha 35 anni, quindi no grazie. Rabiot è un giocatore che ha giocato benissimo, per carità ha fatto un salto di qualità, è stato anche protagonista nel mondiale, ma non può assolutamente pensare la Juventus di continuare a sostenere questi stipendi. Bisogna ricostruire, partire dai giovani e mettere da parte questo modo di pensare sbagliato, di puntare a giocatori per vincere subito. Dobbiamo ricostruire, ripartire dai giovani, non dobbiamo pagare troppo i contratti, anzi il monte stipendi va assolutamente drasticamente abbassato. Guardiamo infatti il monte stipendi nel giorno 1 targato Tiago Motta, per questa Juventus ci sono quasi 200 milioni all'ordo. Non ha assolutamente senso, l'obiettivo sarà quello di scendere sotto i 130 milioni già entro questa prima stagione. Vediamo quindi il modulo che utilizzeremo con Tiago Motta, 4-2-3-1 così come abbiamo visto al Bologna, quindi niente 2-7-2. Mentalità equilibrata, due tessini futificanti, due difensori centrali, solamente uno andrà ad impostare e non sarà sulla verticale del regista retratto che si abbasserà e potranno quindi dialogare meglio senza prestarsi i piedi. Box to box sulla zona di centro-destra che andrà a spingere maggiormente nei canali dei mezzi spazi per sfruttare anche ovviamente l'attaccato esterno di destra che sulla carta può spingere di più rispetto all'invertita di sinistra perché qui abbiamo la sovrapposizione forzata col tessino fluidificante così come l'abbiamo visto, ripeto, a Bologna. Abbiamo un'ampienza standard così possiamo sfruttare tanto le spinte laterali, tanto quelle centrali, stedi passaggi più corti per favorire il fraseggio. Ritmo di gioco sulla tre quarti, giocare la palla di spazi per sfruttare soprattutto i mezzi spazi nella zona di centro-destra e gli spazi laterali, o te che mezzi spazi, sulla zona di centro-sinistra. Affrontare la difesa a palla al piede per sfruttare le contese uno contro uno solo da tre quarti a salire. In transizione, classico contro il piede più pressing a tutto campo. In fase di non possesso, linea di pressing alta, linea di difesa standard, fare scattare i pressing sulla tre quarti, impedire il passaggio corso del portiere. Abbiamo Sino sulla punta, ma tre giocatori sulla tre quarti, concedi cross. In questo caso abbiamo notato come con il signor Tegomotta la difesa tende a stringersi. Quindi per cercare di ricreare questa situazione abbiamo puntato sul concedere il cross. Partiamo subito con i sacrifici. È vero che lui non va d'accordo con Max Allegri, quindi potrebbe magari andare d'accordo con un altro mister, ma il punto rimane. La Juventus ha bisogno di intrascare i soldi per fare il mercato. Quindi lui andrà via, accetta l'offerta altisonante del Panzer Man. 90 milioni sono irrinunciabili. Non si confà al modulo di Tegomotta, quindi andava messo sul mercato. L'offerta è stata sicuramente buona perché il Milan paga Kostic 20 milioni. La Lazio non esercita il riscatto per Luca Pellegrini. Lo titolo vuole lo sconto. La Juventus non ci sente. Arriva la Real Sociedad e se lo porta a casa per circa 9 milioni. Personalmente me lo sarei tenuto perché il suo FM23 è sicuramente un signor terzino sinistro, tra l'altro è anche ancora in età di crescita, ma volevo essere realistico. Siccome è in uscita in real life, l'ho voluto cedere. Ma è vero che il paccio in uscita è Alexandro, che finalmente abbandona la Juventus, va via dagli Zebes Munchen e se ne va in Francia. Accetta appena 21,40. E certo, una piccola parte dello stipendio vecchio lo sto pagando io, ma era importante sbolognarlo per abbassare il monte stipendi. Arrivano anche circa 10 milioni abbondanti e pass tra Caviglia, Frabotta, The Winter, Ealing e Piazza. Piazza magari, ma il punto è che Ealing lo sarei anche tenuto. Ma è una scheda veramente brutta, quindi ho pensato di mandarlo via e recuperare ancora soldi dallo stipendio. Come ci sono bossi per gli acquisti? Beh, abbiamo analizzato il profilo di EgoMotta. Un personaggio che è partito con l'allenare in Francia, alle giovanili del Pacer Man, dove ha fatto anche il giocatore, quindi è un paese che conosce. Ha allenato anche in Italia, Spezia, Bologna, Genoa. Quindi vedremo anche queste società, vedremo anche l'Italia in generale e il brasiliano. Quindi se ci sarà qualche possibilità di prendere un sudamericano, lo faremo, soprattutto appunto Verde Oro. Se ci sarà qualche possibilità in Spagna, preleveremo anche da lì, perché comunque è stato anche giocatore della Liga. E' lì, soprattutto, che andremo a fare mercato poi. Se ci saranno delle possibilità anche da altri paesi, le prenderemo in considerazione. Amin Ghiuri è il primo innesto, giocatore duttilissimo, può giocare in attacco, ma anche sulle fasce, come attaccante esterno che taglia verso il centro, prezzo di 35 milioni dal Ren. Talesmagno, arriva anche il talento brasiliano, che è anche dalla sua la forza di poter giocare su entrambe le fasce, visto che è quasi ambidestro. Arriva però come promessa, non come titolare, infatti lo paghiamo appena 12 milioni, dal New York City, se ne parla già da un po' di questo ragazzo, proviamo a vedere se può esserci utile. Caliamo subito l'asso, per studiare Vlavic prendiamo Ovilun, se ne parla anche in Real Life di questo possibile cambio, proprio per la Juventus, è un giocatore forte, athleticamente, fisicamente, tecnico, sa utilizzare entrambi i piedi, abbiamo a che fare con una spesa anche abbastanza contenuta, 22 milioni. Mandato via Aleksandr ci seguiva un atto del signor sinistro, la Juventus tra l'altro segue veramente il signor Parisi, e un giocatore italiano, la Juventus in passato ha puntato molto sulla quota italiana, infatti molte volte si è trovata con tanti giocatori anche in nazionale, non è che lo faccia pagare poco neanche in Real Life le Empoli, ma qui c'erano scucito 30 e passa milioni. Ritorna in Italia anche Arthur Teat, ex giocatore del Bologna, un elemento fortissimo fisicamente ma che sa utilizzare anche i piedini per impostare, potrebbe essere utilissimo per la costruzione dal basso per Tiago Motta, pagato 26 milioni e mezzo. Arriva anche un altro italiano, il signor Battiaviti non ha trovato spazio neanche in Real Life a Nizza, quindi l'abbiamo ripreso per quasi 15 milioni, guardate anche come al solito i contratti sono decisamente bassi, ho fatto anche una scelta piuttosto che un'altra sul mercato proprio, su quello che poteva essere il pagamento del contratto, per abbassare come vi dicevo i molti stipendi. Arriva anche Noah Lang, questa volta dal Belgio, però è un giocatore di cui si parla tantissimo anche con squadre italiane, per esempio il Milan, giocatore di 24 anni, può ancora crescere, sa utilizzare entrambi i piedi sulle fasce, potrebbe essere utilissimo sia a sinistra che a destra, prelevato per 13 milioni che era un'offerta assolutamente irrinunciabile. Prima partita ufficiale della Juventus di Tiago Motta, signori questa non è un amichevole, si fa sul serio, questa è l'andata di Conference League, quarto turno per accedere poi alla competizione vera e propria. Oggi vedremo i volti nuovi, anche se il mercato è ancora aperto, lungi dall'essere terminato, uno dell'avete già visto, Gyuri, poi abbiamo anche Arthur Teat proprio in azione in questo momento, e ovviamente Oilund, la puta che dovrebbe non far ripiangere proprio Vlaovic. Miretti sulla zona di cielo sinistra, per Gyuri, chiesa, Oilund, gol della Juventus, il primo non poteva che essere dell'Oilund, che ci deve assolutamente dare un segnale, è pronto o non è pronto per il grande salto. Gatti è una delle incognite di questa annata, non sappiamo se tenerlo, darlo via, se c'erano offerte sicuramente le valuteremo, ma si attacca ancora sulla sinistra con Gyuri. Gyuri lo scarico per Cambiasso, quindi l'appoggio per Fagioli, che cambia completamente fronte. Ecco, questo è uno dei principi di gioco di Tagomotta, bisogna sfruttare la zona laterale del campo, non quella centrale, si costruiscono con le triangolazioni, le azioni guardate Rovella, come si butta in avanti, tornare di rigore, poi non trova l'ospedaglio, e quindi la palla per Danilo, che l'appoggia a chiesa. Attenzione, posizione decisamente difficile, ma un diagonale pazzesco, è tornato ancora una volta lui il fenomeno della nazione italiana, Federico Chiesa. Danilo Manza, la gira a chiesa, c'è da solo, ancora Oilunda, doppietta per Oilunda, ma anche papera del portiere del Limassolo, Juventus, ha in cassaforte il passaggio del turno, già l'andata, già quarantesimo. Stop di petto di gatti, palla per Rovella, Rovella ancora in avanti, per chiesa, potrebbe andare al tiro in diagonale, preferisce il passaggio, atterramento in era piccola di Guria, attenzione, rigore a Juventus. Al sessanduesimo potrebbe chiudere la propria Oilund, tripletta la prima partita spaziale della Juventus, ma attenzione l'avversario non era ostico. Vittoria, faccia le faccia, ritorno per 1-0 di Cortomuso, che ve lo dica a fare, segna Oilund, siamo nei gironi di Conference League. Sortigi di Conference League con il presentatore Ralf Hasenhult, l'ex annatore di Southampton e Lipsia, tra le altre cose. Questi, quindi gli otto gruppi finali, Girono è sicuramente abbordabilissimo, bisogna assolutamente finire a punteggio pieno, ma ci sono avversari dopo che potrebbero essere complicati. Monaco di Francia, Francoforte, Copenagher, Pies Vendover, attenzione al Galatasaray, che rivanca brutti ricordi. L'obiettivo finale di questa competizione deve essere Ebden Park, fissiamocelo in testa, dobbiamo arrivare a Glasgow, in Scozia, nello stadio della Nazionale. 2 settembre 2023, l'ultimo colpo è in uscita, almeno per questo mercato invernale, va via anche Daniel Lugani al West Ham, vale tipo 15-20 milioni, ma attenzione, l'ho venduto per una cifra molto bassa, appena due e mezzo, che poi è anche quello che danno come valore sul Transfer Market, ma il punto è, prendeva 5 milioni all'ordo, erano veramente troppi, tutti gli altri giocatori che avete visto che abbiamo comprato, prendevano praticamente quasi la metà di media, quindi andava assolutamente sbolognato, anche perché poi non è che sia un fenomeno. Questa quindi la formazione titolare al momento, Chiesa resta assolutamente protagonista, addirittura numero 7 come George Best, numero 11 per Hoylund, Pogba e Ghiuri completano la fase offensiva, Locatelli e Rovella come centrocampisti, difesa Parisi, Danilo sulle zone laterali, Arthur Theat e Bremer come centrali. Codice fiscale è operato a vendere, non se l'è voluto prendere nessuno, quindi resterà il portiere, avrei preferito premiare ovviamente Perin, anche per abbassare l'impatto sul Montengagi. 23 settembre 2000 e 23 subito, derby tra Juventus e Torino, va in rete Rodriguez con il vantaggio dei Granata, ma la Juventus non ci sta, prova quindi a sfruttare la catena di destra tra Bremer e Chiesa, Chiesa sterza, mette la palla dietro per Pogba a Filippalo, pareggio Juventus, ma non è finita la partita, quindi ancora Pogba per Rovella, che prova la percussione centrale, più e più volte, attenzione alla posizione di Chiesa, guardate dove sta, errori Novarra, stava davanti, ma la rete è valida, 2 a 1 per la Juventus, ancora Rovella per Miretti, siamo al 77 adesso con Oilund, che la smista Ken, fagioli, che gol di fagioli, 3 a 1 per la Juventus, come è andata la Juventus in conference, beh, passa chiaramente il suo girone, ma addirittura non ha punteggio pieno, pareggia due volte, di cui una persino in casa, andiamo a vedere cosa è successo negli altri gironi, per vedere se sono cose clamorose, ma soffermiamoci sulle prime in classifica, ovvero Monaco, Bruges, Francoforte, Copenhagen, PSV Eindhoven, Bodogliemth, e alla fine Austria-Viena, quindi queste otto squadre, non si affronteranno tra di loro, salteranno un turno, le seconde, ovviamente sfideranno quelle che scenderanno dall'Europa League, vediamo quindi quali sono questi club di Europa League, che sono arrivati terzi nel loro girone, e quindi andranno a sfidare quelle di Conference League, Braga, Olympia, Costa Real Betis, Carabag, Lille, Malmo, Brighton, e Shakhtar Donetsk, attenzione perché ci sono alcuni club pericolosi, Montagne Russe per la Juventus, in questo momento guardate quante sconfitte, Salernitana, Udinese, Milan, guardiamo la classifica, al momento la vecchia signora è in terza posizione, prima addirittura clamorosamente Atalanta, con sei punti di vantaggio, piccolo saltino avanti nel tempo, a 3 febbraio 2024, per capire un po' come è fido anche il mercato invernale, Tego Motta ha utilizzato poco di sciglio, ho pensato qui di metterlo sul mercato, nonostante comunque tre buone prestazioni, va allo Sasuna per 2 milioni e mezzo, quindi purtroppo non potremo più avere a che fare con questo visino, faremo a meno anche di codice fiscale, non se la stava cavando affatto male, 14 gol subiti in 16 presenze, ma se l'era preso a costo zero per giugno il signor Newcastle, quindi ho chiesto a Newcastle, senti mi puoi dare 2 milioni e mezzo e te lo do già a gennaio, così perlomeno non gli paghiamo altri 6 mesi, aveva uno stipendio altissimo, quindi lo abbiamo sbolognato in Inghilterra, dove prende ben 10 milioni all'anno all'ordo. Altro elemento poco utilizzato, Arthur appena una presenza in campionato, se ne va a Crystal Palace per 15 milioni, direi un'ottima uscita. Ci lascia anche Andrea Cambiaso, ma semplicemente in prestito, come al solito, al Genoa. Tabbia, sempre in prestito, non venduto anche su Le, perché praticamente non l'ha fatto mai giocare, Tego Motta, quindi era inutile fargli perdere un anno, lo mandiamo in Serie B. Cagliorghe era un prospetto giovane, brasiliano, però obiettivamente Tego Motta neanche lo faceva giocare, quindi ho preferito fare plus Valencia, va via per 9 milioni. Appena 4 presenze per Zaccaria, ma tanto basta al Tottenham per crederci, se lo comprano per 32 milioni, e si è fatto festa per almeno una settimana qui a Torino. Lo conosce benissimo Tego Motta, visto che lo ha allenato allo Spezia, Emilio Holm è un prospetto che sta seguendo la Juventus anche in Real Life, per 2 milioni e mezzo è stato un ottimo affare, giocatore che potrebbe tranquillamente aiutarci a spingere sulla fascia destra. In questo mercato invernale abbiamo perso due terzini, una destra, una sinistra, sulla destra è arrivato Holm, sulla sinistra quindi mancava qualcuno, e arriva Adin Truffé per 9 e mezzo da Ren, altro prospetto interessantissimo francese, questo lo consiglio particolarmente a tutti. Avevamo perso il codice fiscale, ci dovevamo portiere per avere un sostituto di Perin, non doveva essere troppo forte perché non dobbiamo mettere in difficoltà Perin, lui comunque è giovane, ha fatto poche presenze, ma comunque si è distinto dal Saint-Étienne inglese, ma con nazionalità anche francese, quindi non blocca nessun, diciamo, slot extra-way, potrebbe comunque ancora crescere ciò a 23 anni. Fiorentina-Juventus subito, corner di Novella per la testa di Bremer, 1-0 per la vecchia signora, che ancora non è sazia, quindi continua a spingere, fagioli sull'alto e sinistra, per Diuri che la mette a cedo con tanta fortuna, alla fine arriva Eulund e fa il 2-0. Juventus-Inter non è mai una semplice partita di calcio, dentro ci sono veleni, corsi di corsi storici, sfottò, ci sono una varanga di aneddoti, potremmo per esempio partire dal 1961, con l'invasione di campo, che provoca la vittoria a Tavorino per l'Inter, salvo poi la Juventus fa ricorso, rigiocata, l'Inter per protesta mette la bravera, la Juventus vince 9-1. 1967, Gianni Bale, più grande giornalista italiano sportivo, con il termine derby d'Italia, la Juventus ha 12 scudetti, l'Inter 11, il Milan è dietro il Genoa, le scuole più seguite sono queste due invece, che nell'ultima giornata di campionato, si giocano uno scudetto, l'Inter ha 48 punti, uno in più rispetto ai 47 della Juventus, nell'ultima di campionato, può battere agilmente il manto, ma perde 1-0 con errore, chiaramente del portiere, la Juventus batte la Lazio, e vince lo scudetto a distanza, finisce il mito della grande Inter, 1998, lo specifico il 27 aprile, si gioca Inter-Juventus, sono due squadre accreditate per vincere lo scudetto, rigore grosso quanto una casa, di Giuliano su Ronaldo, non dato da Ceccarini, determinerà sicuramente, tra tante altre cose, la vittoria finale della Juventus, il 5 maggio, non è più la poesia di Manzoni, nel 2002 l'Inter perde uno scudetto, che aveva praticamente già vinto, nell'ultima giornata di campionato contro la Lazio, mentre la Juventus, ancora una volta, vince contro di Rese, e si porta a casa la Serie A, per non parlare poi di calciopoli, quando Juventus perde due scudetti, uno di questi è assegnato all'Inter, apriti cielo, potremmo però finire veramente, per farci un video a parte, Juventus, Inter, si gioca a Torino, e subito Ghiuri, palla in area piccola, con disattenzione completa del difensore dell'Inter, qui si è imbambolato bastoni, 1-0, facile facile, però l'Und che da lì, chiaramente non può sbagliare, ancora Juventus, mancano 7 minuti, attenzione ad attaccare, perché se perde palla Juventus, può ripartire contro Pede Inter, Olma al centro, per Pogba ci pensa a lui, di testa, a portare su 2-0 la partita, Juventus vince il derby d'Italia, 27 aprile 2024, quando mancano appena 5 giornate, a 3 mesi della Serie A, la Juventus sta conducendo la classifica, con 2 punti in più rispetto all'Atalanta, 4 in più rispetto all'Inter, in Napoli sembrerebbe defilato, praticamente a 9 punti, però attenzione, perché quello che preoccupa della Juventus, è l'andamento, nelle ultime 5 partite, in Serie A, 3 sconfitte, una sola vittoria, e un pareggio, se la sta passando veramente male, ma attenzione però, perché la differenza di Etti, non è affatto malaccia, è la migliore al momento, quali sono le sfide, che dovranno affrontare, questi 3 team, la Juventus scontro diretto, con l'Atalanta, attenzione, poi attenzione anche a Sassuolo, perché sta sorprendendo, in quinta posizione, mentre i Bergamaschi hanno, ovviamente la sfida con la Juventus, ma anche con il Milan, questa potrebbe essere pericolosa, l'Inter invece, non ha sfide impossibili, Fiorentina, Torino, Cagliari, difusione e Genoa, l'Inter sulla carta, ha più possibilità della Juventus, ma dovrà recuperare, 4 punti, come si sta comportando la Juventus, in Coppa Italia, partiamo dagli ottavi, vince, ma solo i rigori, contro il Monza, poi ai quarti, becca Ludinese, 2 a 0, secco, in semifinale, ci sarà quindi doppio scontro, con un complessivo di 5 a 3, superano questa sfida, in finale, sarà contro il Napoli, come è andata però, fino adesso, con i partenopei in campionato, beh, la sfida d'andata, la vince la Juventus, 2 a 1, la sfida di ritorno però, la vincono proprio i napoletani, e la finale di Coppa Italia, la sfida si sblocca già, al settesimo, con questo lancione di Lobotka, per Elmas, Elmas si butta in profondità, lo spiraio deve sterzare, poi alla fine, palla per Kvary a sveglia, 1 a 0 per i partenopei, finisce qua, Tiago Motta perde già il primo, trofeo di questa stagione, la Coppa è nazionale, meno male che c'era ancora la Conference League, con la Juventus, impegnata agli ottavi, facile facile, il passaggio sullo Shakhtar Donetsk, poi ai quarti si becca il PSV Eindhoven, fa fuori anche gli olandesi, in semifinale, batte anche i tedeschi del Francoforte, sarà finale contro il Brighton di De Zerbi, finale che si sblocca al 23esimo, con il Brighton, che attacca sull'auti destra, con Tariq, l'uomo velocissimo, che mette la pallazione per Welbeck, 1 a 0 del Brighton, 29esimo, attacca ancora il Brighton, con Angelinho, sull'auti sinistra, poi la palla per Keisedo, Modder prova a piazzarla, che gol di Modder, già due gol sotto, la Juventus al trentesimo, deve darsi una svegliata, l'acuto arriva sul calcio d'angolo, Hoylund di testa, non perdona, 2 a 1, la Juventus è ancora viva, continua ad attaccare sulle palme attive, da rimessa terraria, arriva ancora Hoylund, a scambiare con Pogba, prove il tiro, ma con un batte e ribatte, la fine finisce sulla testa di Ken, che va sul 2 a 2, bisogna crederci, attenzione, andiamo a recuperare subito questo pallone, e andiamo a fare il 3 a 2, e Subinani la mette al centro, e il 3 a 2 lo fa il Brighton. Seconda Coppa, che non doveva essere persa, finora, questo, Thiago Motta, è peggio di Pirlo. Juventus, che però perlomeno riesce a portarsi a casa, allo scudetto, un solo punto in più rispetto all'Inter, che come si diceva, aveva sicuramente, una serie di partite più semplici, guardate anche il canoniere però, Hoylund, 29 centri, 3 in più rispetto all'Otaro Martinez, i numeri di Hoylund, fanno letteralmente paura, 46 partite titolare, più 5 di subentrante, 50 gol, non fa assist, ma per quelli ci pensa, Guri, e anche Pogba e Chiesa, i 3 trequartisti, hanno fatto la differenza, nel senso che hanno passato il pallone, soprattutto, a quello lì davanti, che è stato un micidiale quest'anno. Non sappiamo ancora se Real Life, rimarrà Real Madrid, ma Ancelotti nel gioco, in questa simulazione, ha vinto la sua quinta Coppa, dalle grandi orecchie, battendo in finale, il Bayern di Monaco, mentre in Europa League, e l'Inter, in una finale tutta italiana, a portarsi a casa, la competizione. Diamo uno sguardo agli acquisti che abbiamo fatto, sono stati convenienti, non convenienti, Etienne Green praticamente ha fatto una sola presenza, quindi non è valutabile. Per quanto riguarda invece True Fair, è stato utilizzato, ma attenzione, non ha fatto una grandissima stagione, media voto sotto il 7, Olma invece è stato utilizzato di più, 19 presenze, 7,37 direi decisamente positiva, la sua annata vale più di quello che l'abbiamo pagato. Poi Noah Langa, attenzione, 6,87, la media voto non è assolutamente altissima, perlomeno è stato coinvolto spesso, Mattia Viti mantiene il valore di mercato, ma anche lui, media voto non esaltante. Poi abbiamo Arthur Theat, su questo ci si aspettava veramente tanto, ma media voto 6,88, è stato un fallimento anche lui. Parisi vale più di quello che l'abbiamo pagato, media voto 6,94, quasi media voto, diciamo positiva. Hoylunda è stato l'artefine di questo successo in campionato, vale già tantissimo il tribo di quello che l'abbiamo pagato, 29 reti in 33 presenze, direi ottimo acquisto. Tales Magno è una scommessa, purtroppo non l'abbiamo vinta, penserebbe appena tre gol, 6,79 la media, ma perlomeno mantiene il valore di mercato. a Minghuri da Renna, qui abbiamo un giocatore che ha fatto 8 gol, 11 assist, media sicuramente positiva, valore di mercato, che è praticamente in linea con quanto abbiamo pagato, quindi direi positivo anche il suo apporto. Dusan Vlavic in chiaroscuro, perché alla fine fa 13 gol in campionato, ma solo 8 volte entra titolare, 13 da subentrante. Non se la passa bene nemmeno Zaccaria, media voto brutta, e anche poche volte utilizzato come titolare. Kostic addirittura non in vendita, preziosissimo secondo il Milan, media voto sicuramente positiva, e anche 4 gol. Crystal Palace che si coccola Arthur, è un giocatore che vale già più di quanto lo hanno pagato, ha avuto una media voto non altissima, ma è stato sempre coinvolto come titolare. Questa non me la sarei mai aspettata, Caglio Jorgen non riesce a sfondare nemmeno al Girona, appena 4 partite da titolare, e 10 da subentrante. Ottima invece la stagione di Luca Pellegrini, guardate quanto vale 28 milioni, media voto quasi del 7, e ha fatto il titolare. Addirittura non in vendita, gioiello del Marsia, il signor Alexandro rinasce con un assist, due volte migliori in campo, media voto 6,87, titolarissimo della scuola francese. Lo so, lo so, ve lo state chiedendo tutti, che fine ha fatto? Adrien, De Gaulle, Rabiot, è finito al Chelsea, ma tanto va tutti lì, chiaramente c'è un pozzo senza fondo, questi possono compare il mondo intero, ma poi per finire secondo in classifica, ma che ci sei andato a fare? Ti stavi alla Juventus, ti avevo offerto un terzo del contratto, accettavi per la gloria, mercenario! Quadrado invece va al Barciona, perché giustamente il Barciona ha un sacco di soldi a disposizione, hanno anche loro un pozzo senza fondo, i free play per loro non esiste, secondi in classifica tra l'altro anche i canterani dietro a Real Madrid del signor Ancelotti. Per chi invece si stesse domanda dove è finito il fideo, beh, a Liverpool, per fare una stagione pazzesca, di appena un gol in tutto il campionato, in undici gare, dove solo in tre è partito da titolare, il fideo. Saremo anche stati scarsissimi nelle coppe, però perlomeno abbiamo tagliuzzato quasi della metà il monte stipendi, da quasi 200 a 113. Nella precedente, Carriera Roleplay, quella che abbiamo fatto con il Napoli di Luiserica, mi avete chiesto come si fa, quindi a fare il profilo di un allenatore che è normalmente già presente da base, senza avere il doppione, beh, ovviamente, aprite l'editor pregame, recuperate le informazioni utili per fare il patentino, quindi le caratteristiche mentali, e anche quelle di allenamento, e poi, ovviamente, quando andate a fare il vostro profilo, mettete esattamente quei dati. Per togliere, invece, il doppione, sempre dall'editor pregame, andate a selezionare la voce del dato allenatore e la rimuovete. Salvate, create un nome appunto che potete ricordarvi, per esempio, quel mister di quel allenatore, e poi ogni volta che andate a caricare una partita, caricando anche quel file presente in editor data, ovviamente non avrete più il doppione e ci sarete solamente voi. Grazie a tutti.